18 posti letto pediatrici neonatali misse a disposizione dalle Marche per i profughi ucraini. Come spiegato dal direttore del Gorese, si tratta di una prima risposta immediata alla richiesta per l'emergenza sanitaria. La nostra regione ha risposto immediatamente mettendo a disposizione 18 posti letto pediatrici neonatali nei diversi setting assistenziali intensivi, subintensivi ed ordinarie e nelle prossime ore metterà a disposizione anche posti letto pediatrici oncologici, adulti oncologici e dializzati. Nello specifico si tratta di un posto letto intensivo pediatrico, un letto intensivo neonatale, un letto subintensivo pediatrico, due letti subintensivi neonatali, sette letti ordinari pediatrici e sei ordinari neonatali. Le strutture sono l'ospedale regionale di Torrette, Marche Nord e la rete ospedaliera di Asur Marche. Nel frattempo è stato donato un nuovo carico di farmaci dalle Marche per l'Ucraina grazie al supporto di un tir della protezione civile con antibiotici, cortisonici, atropina, adrenalina e medicinali per la gestione delle emergenze urgenze. La regione Marche ha risposto mettendo a disposizione una lista di farmaci che sono state raccolte dai quattro enti che caratterizzano il nostro sistema sanitario regionale, quindi Marche Nord, Lirca, Torrette ed Asur. Questi farmaci sono stati convogliati presso il punto di raccolta di Avezzano e da qui si stanno muovendo verso l'Ucraina. Il dottor Caroli informa poi che il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ha chiesto la disponibilità di team sanitari per raggiungere l'Ucraina in vista del trasferimento dei malati in Italia. Il meccanismo nonale di protezione civile ha richiesto l'invio sulle aree di presenza dei profughi di team di scouting sanitari che valutino l'appropriatezza dei medevac, quindi della medical evacuation di questi pazienti verso gli ospedali e siamo in attesa che i nostri ospedali mettono a disposizione questi team sanitari.